Vincolo di parentela, futili motivi e premeditazione. Sono queste le tre aggravanti contestate dal PM di Arezzo, Laura Taddeia e Giacomo Ciriello, accusato dell'omicidio volontario del padre Raffaele, un fabbro 51enne originario di Avellino ma residente a Lucignano. Il 18enne della notte tra domeniche e lunedì a Lucignano ha ucciso il padre sparandogli con una doppietta da caccia al volto. Il delitto si è consumato all'interno della villetta dove il giovane viveva con il padre. Da quando si è consumata la tragedia il giovane si è chiuso in un serrato silenzio che non ha rotto nemmeno nel corso dell'interrogatorio in carcere svolto lunedì pomeriggio su richiesta del PM Laura Taddei. Il giovane infatti si è avvalso della facoltà di non rispondere rilasciando unicamente una dichiarazione spontanea. Indietro non si può tornare, ha detto, assumendosi così le proprie responsabilità. Per mercoledì mattina in programma l'udienza di convalida dell'arresto in carcere ad Arezzo davanti al GIP Anna Maria Loprete. Giacomo, assistito dall'avvocato Stefano Del Corto, probabilmente non parlerà nemmeno davanti al GIP. Il giovane si trova nel carcere Aretino di San Benedetto dalla notte del delitto monitorato come disposto dal PM Laura Taddei su richiesta del legale. Intanto il corpo del padre Raffaele si trova all'ubitorio dell'ospedale San Donato di Arezzo dove probabilmente mercoledì l'equip di medicina legale dell'Università di Siena svolgerà l'autopsia. Una volta eseguito l'esame autoptico le spoglie saranno riconsegnate alla famiglia per il funerale.